Ciao a tutti, sono Giorgio Bocci e sono la regista dell'ottavo episodio di Fuori dalle Scatole. Non avete idea di quanto sia difficile fare la regista, deve tenere sotto controllo un sacco di cose. C'è la truccatrice che ci sta mettendo un secolo. Mi pare il mio lavoro. E l'operatrice video sta sempre a giocare con il cellulare. Sei pronta a registrare? Forza, forza, oggi dobbiamo mostrare tante cose. Un amplificatore per cuffie valvolare, una serie di seminari per videomaker, un microfono con faretto LED integrato, un controller multifunzione, un vinile con la copertina di Giger, una fotocamera a forma di coniglietto, un registratore per convertire il VHF. Regista, guardi cosa ha combinato la truccatrice! Ha fatto il mio lavoro. Regista, scusi, com'è che funziona questa cosa? Non è che si accende? Oh mamma, che delirio! Sigla! Sigla! Ecco qui, Bravo Audio More 10 Music. Simpatico ogni volta che si tratta di audio, ci metti sempre il simbolo del vinile con il braccino del giradischio, anche se questo non c'entra niente con il giradischio. Infatti, vedete qui, è il Bravo V2 Headphone Amplifier, quindi un amplificatore per cuffia. Preso su Drop, di cui vi ho parlato più e più volte, e ai noi, ogni volta che qualcosa arriva dagli Stati Uniti, niente da fare. Ho pagato 23,68 di dogana. Il brutto è che lui costa pochissimo, io ho pagato 67,50 dollari, spedizione inclusa, che sarebbero 57 euro al cambio. Ma al totale, vedete, arriviamo subito a 80 euro e spicci, perché il balzello della dogana non manca mai. Ma andiamo a aprire questa bella scatolina tutta azzurrina, con un po' di attenzione, perché c'è la valvolina dentro. Ok, qui c'è il User Manual, che è in lingua inglese, ovviamente, con un minimo di spiegazioni su come riscaldare le valvole e quelle che sono le specifiche. Tutto in inglese, ma non ci spaventa assolutamente. Cosa c'è in questa prima scatolina? C'è, ah, giustamente, l'alimentatore, con la presa di tipo americano. Oh, yes. E questo, sì, lo dovrò modificare, ma dovrei riuscire a trovare in giro un cavo di alimentazione di questo tipo. Alimentatore, sicuramente, di tipo switching, però, non so se riuscite a vederlo, è personalizzato, bravo, ed è un'unità da 24V su 1,5A, quindi sui 36W, sì, indicato. Ma continuiamo a vedere il resto di dotazione. Qui si nota che c'è un adattatore da spinotto da 3,5V a 6,35V. Andiamo a togliere qui l'imbottitura. Ed eccolo, lì sotto, solo soletto, con tutto montato, con la sua balvolina, anche questa personalizzata, bravo audio, manopolina, l'uscita e l'ingresso. Infatti è indicato qui in e out, qui l'alimentazione e qui spento a acceso. Niente, adesso vado a procurarmi un cavo di alimentazione adeguato e poi lo proviamo un attimo insieme. Ho trovato il giusto alimentatore, vi sto facendo vedere il tutto poi una luce abbastanza soffusa. Per far vedere il fatto che ci hanno messo due led, uno rosso, vicino a questo grosso condensatore, che ci fa capire quando è acceso, e un altro, secondo me, orrendo, blu, che quindi ci nasconde tutta quella che è l'incandescenza del filamento. Attenzione che poi il ragazzo scalda e scalda parecchio. E no, non pensate che a scaldare sia tanto la valvolina, perché la valvola si ferma a un 66 gradi. Quello che scalda tanto sono invece la parte laterale, dove ci sono i dissipatori dello stato solido, che arriva alla bellezza di 80 gradi. Quindi, attenzione ragazzi, che se lo prendete di lato, vi andate a scottare. Per il resto, funzionamento molto semplice, si accende, attenzione che nelle cuffie si sente un bump, e durante la fase di riscaldamento si sentono ronzii strani. Ma dopo, diciamo, un minuto, il suono non è affatto male. Carino. Carino nel senso che comunque è una buona potenza d'uscita, vi ricordo che è ibrido, quindi pre-valvolare, ma al finale è stato solido, quindi spinge bene, spinge bene tutte le mie cuffie, ma non è esente da distruzione. Quindi è un oggettino piccolo, economico, divertente, vi dà un pizzico di suono valvolare piacevole, ma nulla di più. Quindi, gustoso, divertente, ha anche due ingressi RCA, se dobbiamo collegarci magari una sorgente, tipo, non so, un vecchio lettore CD, ci mettiamo lui e cerchiamo un angolino di ascolto in cuffia, sicuramente divertente. Se vi interessa, come sempre, link qui sotto in descrizione. Se lo so ragazzi, questo non è un fuori dalla scatola, ma è un fuori dal mio smartphone, perché voglio tornare a parlarvi delle Brain Camp. Ho già partecipato come relatore alla versione per fotografi, e qui invece voglio semplicemente segnalarvi la versione per videografi, per videomaker, questa formula di 15 seminari che potete vedere come e quando volete, seminari fatti dei grandi professionisti di livello internazionale. Vi cito quelli che conosco bene di persona, come la mitica Dalilu, youtuber, l'altrettanto mitico Simone Choi, anche lui è un mio collega youtuber, oppure l'altrettanto mitico Luca Bracali, con cui ho avuto la fortuna di fare uno splendido viaggio in Giappone, e lui, insomma, non è soltanto un videomaker, è anche un regista, un grande fotografo, un grande esploratore, e lui, insieme a tantissimi altri professionisti, sono presente a vostra disposizione in questa formula particolare, che costa 149 euro, ma ragazzi, prima lo comprate e meno vi costa. Se correte subito sul link qui sotto in descrizione, oggi lo comprate non a 149 euro, ma soltanto a 69 euro. E essendo un videocorso online, è comodo, perché voi vi iscrivete, e poi quando si attiveranno questi 15 video, potete andarli a vedere e rivedere con i vostri tempi, senza fretta. Quindi, secondo me, se avete l'amore, la passione o la professione dedicato a quello che è il linguaggio del video, fa assolutamente per voi. Ma andiamo avanti. Ecco qui un oggetto particolare, perché è un oggetto che integra una luce video con un microfono di tipo cardiode. Ma andiamo subito a vedere cosa c'è nella scatolina. Sali essiccanti, fondamentali. Ah, caspita, c'è il gattino morto. Il dead cat, da una forma strana, perché c'è una velcro? No, c'è solo un elastico. Sì, giustamente andrà posizionato. Poi adesso vedremo tutto intorno. Togliamo un po' quello che non ci serve. Poi cos'altro abbiamo? Giustamente la cavetteria. Di più tipi. Quanti tipi? Due tipi, fondamentalmente. Quello per i cellulari, con i quattro contatti. Quello per invece le fotocamere, con i classici tre contatti. E più ci dovrebbe essere, spero. No. C'è il cavetto USB, giustamente per ricaricarlo. Un libriccino di istruzione, che vedo subito lingua orientale. Ma sarà solo lingua orientale, no? Sarà anche, sì, lingua inglese. Ecco tutto spiegato. Qua anche quello che è la risposta in frequenza e il grafico, insomma, della risposta direzionale. Ok. Ma leviamo tutto e andiamo a vedere lui. Eccolo qui. Come si accende? Vediamo un po'. Accendiamo la luce. C'è un po' di carica residua? Sì, c'è un po' di carica residua. Poi adesso dovrò studiarmelo. Posso aumentare la luce? Sì, e anche di molto. Quindi, meno, 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 sì. Vedete, la luce va a diminuire. E poi, M, devo scoprire cosa servono tutti i tasti. Bene, ragazzi. Me lo vado a studiare e mi fa piacere vedere che abbia... Andiamo un po' a spegnere. Off, ok. Uno, due, tre, simi slitte. Contatto caldo, per scusare, slitte flash. Quindi possiamo andare a mettere comunque anche altri accessori insieme. L'uscita per quello che è il microfono. E il microfono, secondo me, è questa capsula. Andiamo un po' a stringere. Dietro la griglia qui. Quindi mi vorrò sbagliare, ma ve lo dico. Tra poco lui andrà collocato grosso modo così. Se vogliamo l'effetto dead cat. Sì, c'è da studiarselo un attimo. Quindi me lo studio, prendo una fotocamera e poi vediamo come illumina e com'è il suono che ne esce. In questo momento mi state guardando senza nessuna luce aggiuntiva. C'è la mia solita luce con la momulfiere qui a sinistra e col microfono integrato nella mia Canon EOS M50. Mentre adesso mi state guardando con la luce accesa. È sempre stata una potenza al 50%. Vedete il riflesso qui sulle mie lenti. Eppure essendo molto vicino, insomma, a distanza di neanche un mezzo metro, la resa effettivamente è molto buona. E anche l'audio proviene dal microfono integrato. Quindi un 2 in 1 praticissimo. Se vogliamo vloggare, tanto questa è la distanza effettivamente di un braccio, è l'ideale per avere un'illuminazione costante sul nostro volto e un'ottima resa sulla nostra voce. Il tutto per 38,99€. Se mi interessa, link in descrizione. Proseguiamo con, mamma quanti riflessi, il Tour Box Neo. L'ho pronunciato come Neo di Matrix. Andiamo subito ad intaccare la pellicolina, così magari qualche riflesso riusciamo a eliminarlo. Carina, ha scritto The Ultimate Controller for Creators. Quindi il controller per chi crea contenuti. Quindi perfetto come me. Iniziamo subito con Quick Start Guide. E questo mi fa davvero davvero piacere. Qui c'è scritto italiano. Vediamo se è vero. È vero. Panoramica su Tour Box Console. Quindi ci sono le indicazioni anche in lingua italiana. Cosa fantastica. Istruzioni di sicurezza. Ma questo ci interessa poco. Leviamo tutto. E andiamo a vedere cosa abbiamo in dotazione. Carine queste due bustine. Togliamo le fori. C'è nient'altro. No. Tutto qui. Iniziamo da... Ok. Stavo rischiando di fare danni. Da quella più piccolina. Mentre qui semplicemente c'è un cavetto da USB di tipo B. USB di tipo C. Ricoperta in tessuto. Carino. Quindi un cavetto di buona qualità. E qui ci dovrebbe essere lui. C'è già sensazione quanto è piccolo. E si vede che la custodia è un po' ammaccata. Ammaccata. Sì. In corrispondenza di quello che è il controller. Anche qui vado leggermente a stringere. Altrimenti non vedrete nulla. Portiamoci anche un po' più di luce. Tourbox. E qui abbiamo tutti i pulsanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tre controller rotativi. 1, 2 e 3. Tutti abbastanza frenati. Quindi non sono quelli che li giri. E vanno tutto qui. Adesso me lo vado a studiare. E poi vediamo se può essermi effettivamente utile. Ecco qui il Tourbox collegato. Si vede dalla spia Vir de Cesar. Non so se si vede dalle riprese. Questa bella finitura opaca. Si sporca subito con il grasso delle mani. Comunque per renderlo funzionante. Bisogna andare sul sito della Tourbox Tech. E peccato che è un sito non sicuro. Quindi un po' spaventa appena ci si arriva. Comunque spaventa un po' che quando andiamo a scaricare e installare l'applicativo dice che praticamente è un'app non riconosciuta. Ho fatto le segui comunque con un po' di preoccupazione. Comunque si funziona tutto bene. Questa è l'interfaccia. Come vedete in italiano. Un italiano in estamente tradotto in maniera un po' approssimativa. Mi spiace il fatto che non c'è nessun modo di metterlo in inglese. Comunque è intuitivo perché a ogni funzione possiamo appunto, a ogni tasto, a ogni rotellina possiamo associare una funzione. E ricordiamo che alcune, anzi tutte e tre le rotelle possono anche essere schiacciate. E viene anche distinta la pressione singola e la pressione lunga. Esistono alcune preimpostazioni ma in realtà è meglio andarlo a configurare a manina. Vi faccio vedere qualche esempio adesso che io che sto lavorando con Premiere. Ad esempio il tastone a quello sopra l'ho messo come un banalissimo play-pause. Comodissimo. Le freccette mi permette di passare da uno spezzone all'altro in maniera molto rapida. La freccetta singolo è l'avanzamento fotogramma per fotogramma, o scusate, secondo per secondo. E con la rotella possiamo spostarci sul punto che vogliamo. Il pulsantone qui mi fa il taglio e se poi il taglio io non mi piace, il tastone laterale è l'annulla. Tutto molto bene, però vi ripeto, bisogna andarci a lavorare. Perché per esempio questa rotellina sarebbe lo zoom. Se lo zoom lo voglio diminuire bene, ma se lo voglio aumentare, vedete, sto ruotando, non funziona assolutamente. Quindi è il classico aggeggino che sì, dobbiamo dedicarci tempo da studiare quale funzione assegnare ad ognuno dei tasti ognuna delle rotelle e poi andarlo a memorizzare. E velocizza? Secondo me sì, solo se ci avremo dedicato del tempo. Di base ha già dei preset anche per Photoshop, per Premiere e via dicendo, ma secondo me se non lo studiate e personalizzate non è utile al 100%. Se mi interessa, come sempre, il link qui sotto in descrizione, ad oggi costa 170,40. Eh sì, un buon vinile al mese toglie il medico di torno. Come l'altro fuori da scatola era incentrato su il vinile rosso di Profondo Rosso, qui ho niente po' di meno che Brine Salad Surgery. Album poi nell'edizione rinnovata del nuovo remaster 2014 con la grafica originale. Grafica realizzata niente po' di meno che da Giger, si scrive Giger, quindi non so se è pronunciato bene, l'artista svizzero che curò la grafica nel 1973, anno di uscita di questo album. Grafica che ricorda, ricordiamo che Giger è quello che ha fatto gli alieni xenomorfi del film Alien di Ridley Scott. L'ha fatto dopo, sei anni dopo, nel 79. E qui c'è questo insieme di volti bellissimi, l'attrice svizzera Lee Tobler, riferimenti sessuali, quello che si vede qui ragazzi non posso dirlo, ma comunque c'è il riferimento al sesso orale, che era il titolo originale, Whip some school on you, insomma spero di non beccare la censura di YouTube, insomma è tanta roba, andatevi a leggere su internet, su Wikipedia, cosa c'è dietro questa splendida grafica. Ma andiamo ad aprirla con molta, molta delicatezza, perché ovviamente non voglio minimamente rovinarla. Voglio salvare l'adesivo, perché io conservo gli adesivi da bravo collezionista, ed eccolo qui, wow ragazzi, non so se mi spiego che spettacolo. Se qualcuno mi chiede, ma perché comprare il vinile solo per questa ragione? Sì, ce l'ho anche in cd questo album, ma in vinile è tutta un'altra cosa. Come si estrae il contenuto? Ok, quindi c'è questa bustona, assolutamente meravigliosa. C'è quello che sembra un libricino, wow, c'è ragazzi. Adesso non so chi è Emerson, chi è Lake, chi è Palmer, ma guardate che spettacolo. Eccoli qui, eccoli qui. Quindi bellissimo anche questo pieghevole all'interno, su cui ci stanno ovviamente i testi e i credits. C'è la busta con una foto, e qui ci stanno delle note scritte da Greg Lake nel 2016, 5 anni fa. E qui dentro giustamente ci dovrebbe essere, con un effetto elettrostatico non indifferente, il nostro bel vinile. E adesso infatti andiamo a mettere due secondi, ma non di più, la puntina qui sopra. Lo so ragazzi, è davvero un delitto togliere la testina di l'audiotecnica da questo splendido vinile, ma non voglio sbattere appunto, vi dicevo, con la censura per copyright. Album straordinario dal punto di vista musicale, se amate il prog rock e avete visto tutto il comparto artistico, sia musicale sia visivo con l'apporto di Gieger, è assolutamente fantastico. Se vi interessa, il link qui sotto in descrizione, costa caro, costa 25,05€ almeno ad oggi, ma secondo me sono 25€ splendidamente spesi, se avete un Giegerischi dentro casa. Ed ecco qui un oggettino che so che mi causerà qualche problema, perché in teoria sarebbe una fotocamera per Agnese, ma sono sicuro che poi Agnese e Giorgia se la contenderanno. Cartoon Camera, una fotocamera per bambini. Confezione in realtà già aperto, qui dietro detta qualche caratteristica, che c'è un display da due pollici e foto da 20 megapixel e video in 1080p. Wow, ma andiamo a vedere com'è all'interno. Oh, sì, prevedo grandi litigate in famiglia perché questo conigliettino che fa... Ma guardate che carina, fantastico. Sì, io ho due femmine, quindi rosa, giustamente, con una pellicolina subito da togliere, via. E un po' se c'è un po' di corrente, pressione lunga. Sì, 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 sto stringendo. E touch? No, forse touch a chiedere troppo? Si può scegliere cosa fare e per prenderlo? No, giù, su. Si conferma con cosa? Col tasto di scatto? Sì, eccola! Eccola, eccola, eccola. Guardate un po' qui. Sì, davvero carina. E se non sbaglio c'è la modalità, eccomi qui, sì. Ciao! Anche di andare a modalità selfie. Ok. Davvero carinissima. Qui davanti cosa dice? Vediamo se stringo se sono già al massimo. Non spiega nulla, comunque. È leggerissima, davvero. E in dotazione abbiamo anche un cavetto micro USB, a USB, dov'è la connessione per l'USB? Questo dovrò cercarlo. C'è qualcosa a scavicchiare? Eccolo qui. Uh, ma c'è una schedina poi? Sì, ragazzi, c'è una schedina in dotazione da 32 giga. Assolutamente non male. Sì, già in dotazione. E poi la connessione micro USB per ricaricare la batteria e anche un carinissimo laccettino per non perderlo. E in dotazione c'è un laccettino più corto, penso per non perdersi, esatto, che anche qui c'è un occhiello, il bellissimo tappino e il libricino di istruzione. Vede che c'è anche la versione per maschietti, insomma, con questo gattino azzurro che vedo che qui c'è in francese, no, è inglese, description de produit. No, questo è francese, quindi ci stanno più lì, riproduzione. Ragazzi, vediamo sì, mi va a fuoco, sì, c'è anche l'italiano. Ma adesso la vado a far provare Agnese, ma mi faccio fare da lei qualche bella foto. Ecco qui Agnese che è tutta vestita di rosa, sarà una coincidenza, invece no, perché vestiti sempre di c'è da mamma, ma sta benissimo con la fotocamera rosa. Ti piace Agnese quella fotocamera? Sì. Senti, adesso mi fai una foto a me. Vai. Ok. Adesso vediamo come è venuto il risultato. Allora, abbiamo detto, c'è da andare qui, c'è da andare fino sopra dove c'è il triangolo. Ed ecco qui la bella foto di papà in mezzo a tutto il disordine. Ragazzi, a Agnese piace tanto. A me piace tanto. Se vi interessa 26 e 99, link qui sotto in descrizione. Eh sì ragazzi, ultimamente sono in piena fase nostalgia, sto recuperando vecchi filmini sotto millimetri, vecchi VHS. Per le VHS, quindi per sorgenti analogici, sono molto interessato a dispositivi come questi che semplificano un po' la vita. Sì, si può prendere una scheda acquisizione, utilizzare il computer, ma deve tenere il computer impegnato a fare questo. Mentre esistono dispositivi come questo DigitNow, questo Full Media Recorder, che permette di fare tutto, vedete infatti, con VHS, DVD, VD8, tutto in maniera abbastanza automatica. Andiamo a incidere la pellicola e anche qui ad aprire questa bella scatolona. Il dispositivo potrebbe essere molto piccolo, con un piccolissimo schermo. Eccolo qui, infatti. Ma spesso c'è sempre una bella dotazione di accessori, che adesso andiamo a vedere. Ecco lui, con... Sì, c'è una pellicolona sopra. 1, 2, 3. Ah, sì. Sempre una soddisfazione quella che è la pellicolina. Schermo, comandi, ingressi appunto analogici, quindi audio, adesso e sinistro, video, uscita per HDMI e uscita sempre analogica. Qua l'USB. Uh, il minimo USB. Quanto tempo è che non vedevo più un minimo USB? E sembra che già inserita ci sia una scheda, ma piccolina però, 4 giga, una micro SD da 4 giga. Però ovviamente questa può essere sostituita. C'è nient'altro? No. C'è il reset. Ok. Quindi l'alimentazione solamente è via mini USB. Quindi, infatti, mamma quanta roba. Questo poi è un aggeggio che fa tenerezza soltanto vederlo. Anche qui c'è un po' da tagliare. Con attenzione c'è Luca a non ti tagliare le dita. Classico convertitore da VGA. Quello carino. In-out, quindi possiamo scegliere come utilizzarlo. E abbiamo anche l'S-video. Quindi, lui. Uno, due. Alimentatore USB, che erogherà pochissimo. 5 Volt, 1 Ampere. Cavetti, quelli per l'uscita. Quindi, da RCA a questo gecchettone che appunto va su AV-OUT. Un altro cavo classico. Ingresso, uscita, tutto su RCA. Un cavo HDMI che fa sempre piacere. Il cavo, giustamente, eccolo con il mini USB. E, cosa carina, sì, c'è il talloncino che ci ringrazia i 18 mesi di garanzia. C'è un software HT Video Capture. Quindi, possiamo anche andare a lavorare su PC. E c'è il manuale di istruzioni, su cui vedo che c'è anche l'italiano che fa sempre piacere. Registrazione vi dicendo. Niente, adesso me lo studio. E poi andiamo a prelevare un piccolo spezzettone di qualche mio video del passato. Eccolo qui, acceso, collegato al mio registratore tramite SCART, non VGA, come ho detto sbagliandomi prima. E vedete sullo schermo l'effetto neve. Ma, se metto in riproduzione il mio registratore, compaiono subito le immagini. Posso anche far partire il REC. Che si vede dal fatto che compare qui in alto le scritte in rosso e sta avanzando. Tutto molto semplice, tutto sotto controllo. Quindi possiamo monitorare sia i risultati, sia l'audio. Che possiamo prendere e abbassare il volume. Adesso lo metto direttamente a zero. E non solo. Questo qui, che era nel 1995, ben 26 anni fa, vi faccio vedere un mini, mini spezzone. Detto questo, se avete tante VHS, ci farò presto un video dedicato. Insomma, se avete dei vecchi supporti, secondo me nel 2021 è il momento di prendere e andarli a digitalizzare per assicurarci che ancora potremmo rivederli in futuro. Perché trovare un registratore funzionante ad oggi non è assolutamente facile. Lui costa 79,99. Come sempre, link in descrizione. Fermi, fermi, fermi. Adesso tocca a voi. Si, tocca a voi dirmi qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi episodi di Fuori dalle Scatole. Perché ve l'ho già spiegato, ho deciso di rallentare sul mio canale, cioè il video in cui spiego il mio adesso basta e questo rallentare porta ad avere più tempo, più tempo per studiare, più tempo per portare avanti dei progetti molto interessanti. Alcuni coinvolgeranno anche voi, seguitemi anche sui social e anche per andare a bussare all'azienda e a dirgli ma il mio pubblico vorrebbe avere la mia opinione su questo prodotto. Quindi magari mandatevelo. E quindi concludo dicendovi Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina perché la prossima settimana arrivano due contenuti molto particolari, un notiziario e un'esperienza che davvero mi ha sorpreso. Quindi, iscritti, campanellina e intanto ciao a tutti e al prossimo video. Grazie.